Dobbiamo mettere minutaggio nelle gambe e quindi tanti giocatori si sono sacrificati ed era quello che volevamo e sappiamo che c'è stanchezza perché anche stamattina abbiamo lavorato forte ma non possiamo assolutamente diminuire il lavoro perché vogliamo stravincere con il Forlì. Quindi la squadra ha fatto quello che doveva, i ragazzi si sono sacrificati e è un test buono per migliorare la nostra condizione. Credo che sia stata una bella serata, una bella partita, credo che abbiamo fatto un buonissimo primo tempo in una situazione come la nostra che conoscete bene quindi sono molto contento. Hanno fatto bene anche i ragazzini del secondo tempo, credo che abbiamo onorato al meglio una serata così nobile. Abbiamo fatto sei giorni di allenamento buonissimi, poi sapete noi in questo momento definire una squadra questa è un po' un azzardo. Abbiamo tanti ragazzini, tanti giovani, aspettiamo questo benedetto 4 agosto, questa ufficialità e poi vedremo come potenziare e rinforzare questa squadra perché poi la Lega Pro non è uno scherzo.